Ma noi possiamo cominciare subito a fare una piccola cosa Andiamo a fare i nostri piccoli, piccoli quiz Cazzo di quiz sono totale Ah dobbiamo indovinare questo cibo Da dove può venire questo cosa con, che cosa so Germoi di soia fatti a vermi? Andiamo questo, chi lo fa? Bro, indonesia Questo è indonesiano, dici? Rice cake, vermicelli noodles, tofu Io, vabbè, io parlo con la voce dell'ignoranza Quindi dico Thailandia Thailandia Anche perché io lui lo conosco, calcola Sì? No, questo qua, no, dici? Ok, no, non lo sapevo Fa video di bodybuilding Ma sarà qualcosa di Filippine O qualcosa del genere, no Mettiamo qua, mettiamo qua Warm, siamo però vicini, però è più a sud Più a sud Eh, non serve a Geographics Indonesia, veramente Però mi sa, indonesia è Indonesia, infatti Signori! Ci sta Chi aveva beccato indonesia all'inizio? È io Andrea Eh, vabbè, ecco, hai vinto un bel pisello piccolino Mando foto? No, è piccolo Ah, vabbè, c'è Leo, giustamente Qui, con questi verbi Sì, quella è una larva Così, questo è India Hot pepper Sì, potrebbe essere India, Bangladesh Cold Siamo pure lontano Cos'è questo? Però il riso, non capisco Okra, non so cosa sia I caroline, quelli sono I caroline, eh, Carolina Reaper Quelli là I caroline Wow Dice West Mexico, vediamo se Ice Cold È più al centro Cioè, tra i due Georgia Più Più a sud Ma non siamo neanche troppo lontani Etiopia È una roba africania Culla ancora Dove è Africa? Sì, Africa Eh, sì Ok Il famoso country Africa Sì, ma è tipo roba Vedi, Kenya Ghana Stokra Che non è Sono messi regalese Non è il Niger Signor Nigeria Buttalo dentro È andato, è andato? È entrato? È entrato, cazzo È entrato, cazzo Va bene, va bene È entrato il Niger Eggblatt Zucchini Ah, un altro? Sì, sì Perché è l'ultimo È l'ultimo Che cosa è una ratatouille Che fa? Stavo per dire Francia Dai Sì, mettiamo Francia Vabbè che poi Sto tipo di Borders Potrebbe essere un po' Spanile oppure coso? Ah, Borders Spanile Eh sì, sì Ma la ratatouille Diciamo è Un po' totale Ecco perché Diciamo una cucina europea Dai Sì, sì Ce l'abbiamo un po' dappertutto Un mix di verdure Mio Dio Andiamo al prossimo Angoli Angolo Signori, quanta pubblicità c'è? Ah, questo è che devi dire I gradi del coso? Vai, quanto siamo? Qui? Sui 45 Poco Sì Poco di più Direi Mettiamo 45 Sì, 55 Dai Mettiamo 50? Sì, 50 Sicuro un po' Leggermente più basso Perché mettiamo 47 Boiling Mettiamo 45 Che ne so 45 proprio? Ma 45 proprio? Ah, poco di meno 44 per forza Dai Signori, trovato 44 grali? Signori Adesso saremo qui un'ora e un quarto A sentire questo Ottimo Mi sto per bloccare queste cose 6 3 3 3 3 3 4 5 5 9 9 9 9 9 9 9 9 5 500 Bit Tu mi devi capire Carte? Ma adesso scrivi carte Può essere creme Ma sì, creme Un po' brutta come parola Perché potrebbe Ok, la R sta qua, ok, manca Ok, perfetto Ma è italiano e inglese le parole? No, no, è italiano Crude, crude, oriamo Crude Eh sì, ci ho preso, dai, per forza Invece no Senti, accia così Ok, abbiamo la O qui Cro Quindi è cro Crove Croce Croce È croce È croce È croce, signori Il nostro signore Il nostro signore è sempre con noi Grazie Gesù per essere sempre con noi E seguirci e abbonarti al mio canale Con il Prime Grazie mille Proviamo subito Primo stage Ecco, sento una cosa scorreggiante Allora, a me ricorda A me senti la scorreggia o non l'ho sentita? Mi ricorda Prima di dirlo Quella, come si chiama? Quella famosissima Tipo Upton Funk Te la posso appoggiare a Upton Funk? Sì, sì, sì Di Bruno Mars Io così La indovino con una Vai? No Invece non è questa Qualche cantante dell'altra sponda Una roba mia Never gonna give you up Non è questa Never let go No, no Never go Che ne so Never let go Vai, Jankook Dai, andate Jankook, vai Sei cazzi Almeno lo sentiamo Ah, ma è famosa o no? Never let you Sì, sì È famosissimo o no? Never let you Close to me Paul Paolo Paul good Il capocchione La tocca piano Dei credo È too good Too good Che cos'è? Andiamo a mangiare Eh? Add goodbye Sam Smith Sì Ragazzi Per me Paul Era Sam Smith Comunque No, non lo so Metti qualcosa In Linkin Park Cosa ne pensate La nuova cantante In Linkin Park? Mi piace Non ha seguito Nessuno ha seguito Non mi piace Non ti piace? Ah, poi Non mi piace Che cos'è? Quella di Shrek Qual è? Dai, regà Quella di Shrek Quella in cui Lui Fa il combattimento Davanti al Lord Farquaad Possibile No? Schrivi Bad Reputation Vedi che Se ti esce una canzone Bad Reputation John Jetten Blackhearts Non so se Possa essere questa Sì Smash Non è questa Non è questa No, non è Smash One Out Smash One Out È l'inizio di Shrek Somebody won't stall me World is gonna roll me Eccola E' lei E' proprio lei Quindi Strano E' proprio lei E' lei Ma è identica Cioè Effettivamente Cazzo è identica È lei proprio No, regà Cioè è lei Ma perché Guarda Guarda come io ho messo Questa con la E Ed è invece questa qui And Regà ma che sta succedendo? Allora Allora Metti sempre Bad Reputation Guarda C'è Ma veramente stavo perdendo per una cosa del genere Però vedete che l'orecchio c'era L'orecchio c'era L'orecchio c'era Quella di Shrek 34 Più Ah Ricordiamo che l'equazione deve avere un senso Cioè deve fare un risultato Sì deve avere ovviamente Esatto 12 uguale 56 46 56 Però per 2 Possiamo fare per 2 in realtà Fai una cosa Per 2 vai Quanto Quanto fa 114 114 Ok Vabbè Mettiamolo E capiamo un attimo Se almeno anche l'uguale sta qua Ok 20 diviso 2 Peno 5 Uguale 5 Esatto Oh Vedete che ci siamo comunque E' un sacco Però qui c'è un altro diviso Qui c'è un altro diviso 40 diviso 2 Diviso 5 Perché 45 Ok Ok Sì sì 9 Fa 9 Quale 9 Ok No 80 80 40 49 8 No Sarvi 8 40 48 Scusate Ah sì Top boys Top E' famotto E' famotto Dice Elisa